Buongiorno a tutti, sono Davide Dell'Orto, sono uno degli assistenti del laboratorio di modellistica di IED Milano. IED è una scuola di design internazionale che ha iniziato ad insegnare negli anni 60 e che ha ospitato studenti di tutto il mondo. Qui insomma un laboratorio di idee e di creatività senza fine. Usiamo le vostre termoformatrici Formec per fare differenti progetti, in questo caso l'abbiamo utilizzata per fare una parte speciale per una tesi in collaborazione con BMW. BMW ci ha chiesto di lavorare sulla loro entry level che è il modello 310 e creare delle parti speciali. Siamo orgogliosi dei nostri studenti perché hanno creato dei lavori assolutamente brillanti. Il risultato è stato esposto nelle fiere di tutta Europa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.